Per la dannosa colpa della gola, la pioggia e il fango, fiaccan codeste animetristi. Che cos'è quella bestia laggiù? Cerbero il gran verbo. Come quel cane che abbaiando agogna e si quieta dopo aver morso il pasto. Cotall si fecero le facce lurde dello demonio cerbero, il cui ulular le hanno le scuole. Che cos'è quella? Che cos'è quella? Che cos'è quella? Cosa cosaTempona? Che cos'è quella? No! Sì! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.